buongiorno a tutti oggi vi porto con me a visitare quello che rimane di una vecchia base nato ormai dismessa è in zona rossa ma abbiamo ottenuto i permessi per poter venire a fare questo tipo di ripresa e come sempre ve la faccio vedere dal mio punto di vista cioè aereo terrestre e guardate un po le dimensioni di queste parabole fanno veramente paura forse nel video non rendiamo l'idea di quanto siano veramente grosse e speriamo di non annoiarvi e buona visione a tutti vorremmo entrare sì buongiorno so Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.